Desert X per il 2023 non cambia, però ha una nuova colorazione che è questa derivata dalle Audi elettriche che hanno partecipato alla Dakar ed è dedicata al Petrucci, dedicata a Petrucci come colorazione. Cosa c'è di carino qua? Si vede bene montato in questa colorazione nera magari i serbatori posteriori risultano meno ingombranti all'occhio e c'è a dire che ecco è anche meglio col paramotore, il paramotore è essenziale per proteggere questa zona del serbatoio che in caso di scivolata, questo è parte di alluminio e questa di plastica, in caso di scivolata anche banale questa parte si rompe e questa si ammacca praticamente subito. Altra cosa che voglio far vedere è di qua altra cosa basilare è una protezione per la pompa dell'acqua che anche questa è veramente esposta, questo è un accessorio che consiglio a tutti di montare, a tutti i proprietari di Desert X che abbiano intenzione di usarla anche in fuoristrada. Comunque è fighissima con gli serbatoi posteriori che però escludono il fatto di poter caricare un passeggero, almeno da quello che vedo qui. Questo è tutto.